Al piccolo teatro cestiriano, presto! Perché si è fermato? Scende, 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 scende e se ne va, eh! Non ce la faccio più! Perché? Perché, lo sai come si dice sotto le armi? Perché l'uomo non è di legno e io non sono di legno! Eh, va bene, ho capito, ma io devo andare al piccolo teatro cestiriano, di qua a piedi ci vuole un'ora! No, lei deve andare al manicomio, lì si sta benissimo e ci va a piedi! Ma perché? Perché questo è un tassì, non è un tapparello, dove si fa lo sfogliarello! Me ne vado, me ne vado, stia tranquillo! Io alla pelle ci tengo, io! Te saluti? Ho cinque figli, non voglio nemmeno i soldi del tassino, non voglio! Gennarini, Giuseppini...